Il portale Eduscopio ha svolto un'indagine secondo cui il liceo classico Galilei Campailla di Modica si è piazzato al secondo posto a livello regionale ma anche da Cosenza in giù, mentre il liceo scientifico si è piazzato al secondo posto in provincia di Ragusa. Risultati dunque importanti. Noi per approfondire questa notizia ne abbiamo parlato proprio con uno dei docenti del liceo Galilei Campailla, il professore Ottavio Manenti, che ci ha spiegato quali gli indicatori utilizzati per compiere quest'indagine e quali quindi le motivazioni che hanno portato a questo risultato importante per gli studenti BLEI. L'indicatore utilizzato è sostanzialmente uno. Il nome è un acronimo, FGA, che sta per Fondazione Giovanni Agnelli. Sostanzialmente questo indicatore valuta la media dei voti degli studenti al primo anno di università associati ai crediti ottenuti. Parliamo degli studenti provenienti dall'istituto in questione. Quindi sostanzialmente i nostri ex studenti all'università hanno, come dire, riportato ottime valutazioni nel loro primo anno di corso. Perché Eduscopio valuta soprattutto i risultati del primo anno universitario? Perché è quello in cui l'impatto, diciamo, è le competenze e conoscenze ottenute nel corso dei cinque anni è più forte. Poi man mano, negli anni successivi, gli studenti universitari saranno meno legati, ecco, meno ma non assolutamente non legati agli studi pregressi. Cosa può aver contribuito a questo risultato? Questo risultato, secondo me, è frutto di tre aspetti. Innanzitutto, noi siamo una scuola che dà grande importanza all'orientamento in ingresso. Significa che, diciamo, presentiamo la nostra offerta formativa ai ragazzi delle scuole medie e, devo dire, abbiamo grande collaborazione anche da parte dei colleghi della terza media che quindi, come dire, aiutano gli studenti a iscriversi in un corso di studi che sia alla loro portata. Tant'è che, diciamo, i nostri alunni hanno, come dire, una percentuale di successo formativo nell'arco dei cinque anni molto notevole. Questo è un dato che Eduscopio sottolinea. Poi il secondo aspetto è quello della didattica. Noi offriamo una didattica che sia, come dire, utile allo studente per formarsi, in prima battuta, un autonomo metodo di studio. In terza battuta, noi aiutiamo i nostri alunni nell'orientamento, diciamo, universitario. E quindi cerchiamo di far capire loro qual è la strada da intraprendere che sia in linea e direi in sintonia con quelli che sono i desideri, le inclinazioni degli studenti. Quindi questi tre fattori fanno sì che i ragazzi poi all'università non solo inizino a frequentare, ma riportino buone valutazioni e proseguano il loro percorso di studi. Tra l'altro, per quanto riguarda il liceo classico, i dati confermano che gli studenti si trovano bene sia in ambiti umanistici ma anche scientifici. Questo in effetti è per noi un dato sorprendente perché io ho avuto modo di confrontare i dati degli anni precedenti e quest'anno in effetti c'è stato il sorpasso, nel senso che negli anni precedenti i nostri studenti mettevano al primo posto la scelta in ambito letterario, umanistico e giuridico. Invece quest'anno, o per meglio dire la rilevazione di quest'anno, sottolinea questo sorpasso che è, ripeto, sorprendente per noi e anche a livello nazionale. Ho visto che né nei licei di Milano né nei licei di Roma, ecco, scelto delle città particolarmente rappresentative, capita che lo studente del liceo classico metta al primo posto la scelta dell'ambito scientifico. Però anche questo dato, voglio dire, è comprensibile se consideriamo che noi non diamo ai nostri, cerchiamo di non dare ai nostri studenti delle conoscenze, ecco, sic et simpliciter, ma un metodo per affinare le conoscenze e quindi delle competenze che poi ritroveranno nel loro iter universitario. Quindi, voglio dire, il nostro liceo dà un metodo, un metodo che può essere speso sia in facoltà di ambito scientifico, sia in facoltà di ambito umanistico, di ambito medico, sanitario e così via.